Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nell'appuntamento della Pinocchio Sincera, la strategia di trading settimanale, settimana particolare, quella appena trascorsa, derivante dalle elezioni americane, pertanto non abbiamo particolari indicazioni su questa specifica strategia, ma nel novero dei vari cambi e cross abbiamo trovato un'ottima occasione che oggi vi proponiamo, siamo sul grafico del dollaro australiano contro il dollaro canadese, gli li vedete in grafica, la Pinocchio Sincera è una Pinocchio Sincera ribassista, una Pinocchio Sincera di un range di 233 pip e andiamo a scorrere di fatto gli estremi. L'ordine ovviamente è un sell stop, essendo una Pinocchio Sincera ribassista, come vedete il sell stop l'abbiamo messo in grafica nel box del dollaro australiano contro il dollaro canadese in fondo, a destra in arancio. L'entrata è 1.01734, ossia 10 pip sotto il minimo della Pinocchio Sincera, lo stop loss è a 1.0406 e 7, mentre il target è a 0.99404. Questi sono gli estremi della strategia di trading settimanale della Pinocchio Sincera, che sta dando degli ottimi risultati e anche voi gratuitamente, senza nessun impegno, senza nessun costo, per ovvie ragioni, essendo gratuita, potete usufruirne laddove ovviamente avete voglia e modo di farlo. Per qualunque domanda, informazione, richiesta che avete potete iscrivere ovviamente a thetradingonline chiocciolagmail.com, un ringraziamento speciale alle ultime persone che mi hanno contattato via email nelle giornate di giovedì e di venerdì. Non mi resta che salutarvi, augurarvi ovviamente un ottimo inizio di settimana e l'appuntamento è al prossimo video o al prossimo post che potrete trovare su thetradingonline.blogspot.it. È davvero tutto, un abbraccio, un saluto e uno di sentirci. A presto.